ben tornati a radio design finalmente oggi siamo riusciti a portare in studio pamela santi eccola qui come co conduttrice la famosissima ormai per il suo podcast sull'arte elisabetta henrietti benvenuta elisabetta perché siamo qui oggi perché parleremo di noi stessi sostanzialmente perché parliamo di noi perché pamela attualmente ancora studente presso il nostro istituto concluderà il suo percorso ad ottobre con una tesi fighissima magari poi un minutino ci spiega su di cosa parliamo ma oggi siamo qui perché parmela sia pamela si è occupata del restyling del nostro luogo però facciamo un passo indietro e ti chiedo parliamo partiamo dal brief qual era la richiesta che era stata fatta dal professor pampanelli allora l'idea di base è quella di creare un marchio che è mutante ogni anno abbiamo un logo nuovo che è un paradosso nel graphic design perché tendenzialmente si cerca sempre di dare un uniformità e una riconoscibilità al marchio in questo caso invece andiamo a stravolgere tutto ogni anno abbiamo un nuovo brand con un nuovo aspetto questo è il primo anno è lo start di questa nuova idea e per la prima volta quindi abbiamo iniziato a cimentarci su quello che è un restyling di un marchio un restyling che ovviamente aveva dei punti fermi il fatto di poter rivedere le immagini delle forme che in qualche modo erano molto rappresentative dell'istituto e il fatto di trasmettere i suoi valori quindi l'idea della progettualità della crescita del futuro ok allora chiediamo magari appunto prego lisabetto e magari appunto si può chiarire per la gente appunto che si sta approcciando a questo mondo da da poco se si può dire che cos'è appunto un un restyling di un logo un restyling di un immagine insomma allora si fa un restyling ogni volta che il brand vuole rivedere la sua immagine vuole attualizzarla vuole dimostrare che è in atto un cambiamento un cambiamento che però di solito non è drastico altrimenti si parlerebbe di un riposizionamento quindi tendenzialmente quando si fa un restyling come dicevamo prima si guarda ai punti fissi cioè quali sono i caratteri più identificativi di un marchio e quindi dove bisogna continuare a spingere con la comunicazione altri aspetti che magari risultano un po vecchi un po passati per quanto riguarda le immagini del marchio viene vengono messi da parte per fare spazio a nuove idee bene si stava complimenti mamma mia c'è incredibile prima di arrivare qui era molto tesa devo dire la verità adesso spacca lo schermo pamela complimenti pamela mamma mia sono sciocata veramente ragazzi voi che ci seguite incredibile pamela è incredibile io allora facciamo un'altra domanda visto che è così bravo ok quindi è approcciato a questo restyling e da quale idea sei partita l'idea di base è quella della progettualità del una progettualità che qui all'istituto è molto forte comunque c'è sempre un'idea di tirare fuori da ragazzi quello che c'è dentro quindi non forzarli ma cercare di tirare fuori il meglio da loro facendo in modo che entrano da ragazzi e escono come professionisti quindi era un'idea però posso confermarlo quindi è un'idea che è stata anche molto affrontata nel senso da sempre nell'ambito del design noi ne parlava munari e ne parlava forse fuori dal design anche se anche socrate sto per disegna attenzione subito gli haters arrivano socrate che parlava di arte maglieutica la maglieutica è l'arte di parturire le menti che l'abbiamo un po associato a quello che fa l'istituto parturisce le menti menti di designer quindi questo era il concept che stava dietro al logo e questo è stato il paragone che è stato fatto il logo come dicevo prima è caratterizzato da due forme primarie del cerchio e il triangolo a cui in questo caso è stato aggiunto il quadrato per fare in modo che avessimo un quadro completo di quelle che sono le forme primarie quelle da cui anche nella geometria può nascere potenzialmente tutto che bomba poi ovviamente avete la possibilità di guardare questo logo pienamente su tutti i nostri canali social poi ovviamente passeremo anche un restyling del sito web per venire incontro poi alla tua idea di corporate di restyling e quindi poi le linee appunto ci dicevi richiamano anche un pochino la Bauhaus giusto? Richiamano la Bauhaus è un omaggio alla grande alla prima grande scuola di design che nacque 199 anni fa il prossimo anno saranno 200 anni dalla nascita della Bauhaus io qualche anno meno sono felicesse anche voi due pensi questa cosa è molto bella e soprattutto non abbiamo detto che questa idea è nata come diciamo challenge tra tutti gli studenti dell'ultimo anno quindi fammi complimenti perché hai vinto a colpi di voti il restyling più bello è stata dura ma l'hai sfangata complimenti a questo punto visto che abbiamo ancora qualche minutino ti chiederei visto che non so se la nostra co conduttrice elisabetta ha delle domande ti volevo chiedere visto che ti stai per lavorare qui all'istituto su cosa stai lavorando allora sono sempre sono sempre nel campo della progettazione questa volta ho approcciato ad una sfida diciamo che sto lavorando in collaborazione con le biblioteche comunali di Perugia che è un sistema che riunisce le biblioteche del posto e che attualmente volevo avesse uno strumento per poter produrre in totale autonomia degli strumenti di comunicazione per promuovere i loro eventi quindi sto pensando a un sistema generativo che faccio in modo che tramite alcuni elementi fissi alcuni elementi variabili si generano potenzialmente manifesti sempre diversi ma questa cosa è una figata spiegacela meglio perché secondo me io più o meno l'ho compreso perché non sono un designer faccio web marketing ho compreso però spieghiamolo ai più profani cosa vuol dire questo allora partendo dall'inizio la difficoltà principale era quella di fare in modo che le biblioteche così come tanti enti pubblici potessero creare dei supporti di comunicazione low budget senza però rinunciare a un design di qualità quindi abbiamo fatto in modo che questo obiettivo possa essere raggiunto tramite un'app che ovviamente sarà gratuita a parte ovviamente la parte di creazione della stessa all'interno della quale l'utente in maniera molto semplice con delle azioni molto elementari può riuscire a creare dei manifesti sono state inserite praticamente delle variabili per esempio ci sarà sempre un capolettera che viene estratto automaticamente dal sistema dal nome del titolo e poi altre icone che rappresentano il focus dell'evento figo è una figata e lo scopro adesso in diretta non lo sapeva nessuno questa è un'esclusiva totale in diretta streaming sia su instagram che su facebook e poi anche in podcast questo dobbiamo ricordarlo anzi approfitto per dire che voi potete riascoltare tutte queste puntate sia su speaker su itunes su spotify visto che voi che siete giovani ascoltate la musica su spotify quindi ogni tanto ci potete alternare anche un'intervista seria non è che potete cazzeggiare tutto il tempo giusto pamela giusto hai ascoltato speaker quest'estate tutti i giorni con la giusta compagnia con la giusta compagnia si mojito e mojito e basta essenziale direi che sei stata più che perfetta cosa ne pensi elisabetta i miei complimenti mamma mia che bomba ragazzi grazie mille ancora e allora la prossima a questo punto io mi aspetto che tu tornerai per parlare di maieutica altre cose fighissime che nessuno comprende grazie mille a tutte e due la co speaker e la briefer la restyle la restyler e alla prossima su radio design ciao questo prima i bottoncini come un gattino ciao siamo ancora in diretta su facebook quindi puoi dire qualche cosa di brutto così ci così ci guarda Grazie.